we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone e ragazzi sfide della settimana numero 8 ne abbiamo già viste alcune sul canale ma oggi andiamo a vedere forse una delle più non difficili semplicemente lunghe quella che ci chiede di trovare tutti i pezzi del puzzle sotto i ponti o nelle caverne come avete visto ragazzi il mio consiglio principale è quello per il primo appunto di atterraggio di scendere nell'accampamento dei pirati quello vicino a lande letali da qua ragazzi possiamo subito trovare i primi due ponti vi faccio vedere prima tutti i ponti presenti in game e poi tutte le caverne ponte numero uno ragazzi eccolo qua quello che collega a prodo avventurato con il bioma del ghiaccio e ponte numero due ragazzi semplicemente proseguendo per il corso del fiume già lo possiamo vedere davanti è quello in ferro che collega il bioma verde con condotti confusi quindi ragazzi con la girosfera i primi due punti i primi due ponti li abbiamo fare invece il terzo ponte ragazzi dobbiamo recarci fino a gerusalemme insomma la città quella nel bioma del deserto ed eccolo qua ragazzi avete benissimo capito dove siamo sotto qua molto probabilmente troverete il terzo pezzo del puzzle possiamo comunque proseguire per questo corso d'acqua un pochettino più piccolo del fiume principale ed ecco qua ragazzi che troviamo un nuovo ponte ma andando avanti invece lasciandoci palmetto alle spalle vi ricordate che qua dove c'è l'accampamento dei pirati c'è il ponte distrutto quindi molto probabile che anche qua possiate senza nessun problema trovare un nuovo pezzo del puzzle andando avanti e ritornando invece nel bioma verde proprio vicino a lande letali tra lande e borgo bislacco ecco qua un altro ponte quello piccolino di legno ragazzi per quanto mi riguarda ragazzi i ponti sono finiti ovviamente se ce ne fosse qualcun altro non dimenticate che metterò un commento fissato in alto dove inserirò la coordinata vediamo le caverne ragazzi la prima eccola qua la caverna che si trova proprio dietro pinnacoli pendenti non so in realtà ragazzi se contava come ponte anche questo ma per vostra informazione qua dove c'è il borgo bislacco il borgo allegro scusatemi c'è il ponte nel bioma di ghiaccio quindi sicuramente anche qua potrebbe essere un punto di interesse per il pezzo del puzzle ma ovviamente ci avviciniamo alla grotta più famosa di fortnite eccola qua quella proprio gigante ed eccoci arrivati ad un'altra grotta molto importante per la storia di fortnite tra l'altro nella season 5 già aveva dentro un pezzo del puzzle ed è quella piccolina presente a rifugio ritirato ma dobbiamo invece raggiungere laguna il porto dei pirati per trovare un'altra grotta naturale quella che è praticamente presente dietro al campanile e se ancora non doveste aver terminato la missione vi ricordo che condotti confusi è un enorme grotta ma anche il sotterraneo della casa dei supereroi avete presente anche lì ragazzi dove una volta c'era parcheggiato l'aeroplano c'è una grotta e per terminare anche la casa invece dei cattivi quella che c'è vicino a sponde del saccheggio anche lì in realtà è tutta una grotta comunque ragazzi non dimenticate che se dovesse mancarvi qualche pezzo del puzzle qua in descrizione troverete sicuramente le coordinate corrette per completare la sfida io vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo presto ciao ciao